Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 in apertura alla cronaca giudiziaria con l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati in cui figurano anche il presidente della provincia di Pescara Di Marco e il sindaco di Farindola Lacchetta. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Jacopo Forcella. C'è anche il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco tra i sei indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. La procura di Pescara ha notificato gli avvisi di garanzia anche al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, al direttore dell'albergo Bruno Di Tommaso, a due funzionari della provincia di Pescara, Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio e al dipendente del comune di Farindola, Enrico Colangeli. Nella tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga di 200.000 tonnellate scesa dal Monte Siella lo scorso 18 gennaio, morirono 29 delle 40 persone presenti, tra ospiti della struttura ricettiva e personale addetto. Tra le vittime anche il proprietario Roberto Del Rosso, che nel piccolo paesino del Pescarese era riuscito a creare un resort di lusso frequentato anche da diversi VIP del mondo dello spettacolo e dello sport. Questa prima tranche di notifiche di iscrizione nel registro degli indagati sarebbe relativa ad una prima parte dell'inchiesta condotta dall'ormai ex procuratore capo di Pescara Cristina Tedeschini e dal sostituto procuratore Andrea Papalia, che procedono sulla base delle ipotesi di reato di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. I magistrati intendono le responsabilità eventuali della provincia nella impraticabilità della strada provinciale numero 8, che ha tenuto bloccate le persone all'interno dell'albergo, e se ci siano responsabilità rispetto ad una possibile sottovalutazione dell'allerta valanghe lanciata dal servizio Meteomonte. Il comune di Farindola avrebbe o no dovuto emettere l'ordine di evacuazione? Al momento invece sembra che i PM non abbiano rilevato condotte penalmente rilevanti nella famosa telefonata delle 17.40, quando Di Tommaso, sbagliando in buona fede, confermò ai funzionari dell'unità di crisi della prefettura che all'hotel Rigopiano non era accaduto niente di grave. Ne risultano al momento contestazioni sull'operato del prefetto pescarese Francesco Provolo. Restiamo a parlare di Rigopiano. Dove sono i nomi del prefetto di Pescara e del governatore d'Abruzzo? E quanto chiede Alessio Fegnello, padre di Stefano, una delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano, ha presa la notizia dell'iscrizione delle sei persone nel registro degli indagati, tra cui il presidente della provincia e il sindaco di Farindola. Il padre di Stefano si definisce imbufalito, ma comunque in parte soddisfatto, perché la sua tesi nei confronti del sindaco, uno dei responsabili di quella tragedia, era corretta, dice. Il nome di Stefano Fegnello, 28 anni, originario di Valva, in provincia di Salerno, che era in vacanza a Rigopiano per festeggiare il compleanno della fidanzata Francesca Bronzi, scampata alla tragedia. Due giorni dopo, la valanga era stato inserito dalla prefettura in un elenco di nomi di cinque supestiti che sarebbero arrivati a breve in ospedale, ma si era trattato solo di un errore. Stefano, infatti, in ospedale non è mai arrivato. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di sanità. Senza entrare nel merito delle inchieste che riguardano il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, il Partito Democratico attacca le opposizioni sul project financing dell'ospedale di Chieti. Opposizioni che, dice il Partito Democratico, sono solo in grado di denunciare chi lavora per il bene degli abruzzesi. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Rispetto per il lavoro della magistratura, ma amarezza e indignazione per le polemiche strumentali delle opposizioni brave, secondo il PD, solo a fare denunce e non a portare proposte. Il Partito Democratico abruzzese fa così quadrato al fianco del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, oggi al centro di alcune inchieste. Io penso che non sia questo il modo di fare opposizione, è che al contrario noi dobbiamo caricarci di dare risposte, soluzioni, alle questioni che sono appese e che ritengono, e ritengo, debbano essere aggredite. Come si fa a fare una nota all'ANAC nella quale non viene mai citato il grave tema della vulnerabilità sismica di quella struttura? Come si fa a fare una nota nella quale non si cita che intervenire sull'ospedale di Chieti è davvero una necessità per la gente e per le comunità? Come si fa a scrivere una nota e a non riprendere l'appello dei medici di oggi, che è, mi pare, la palissiano, ovvero tre quarti dell'edilizia sanitaria abruzzese, purtroppo è datato, è datato a 40 anni, è datato a decenni e quindi costruita in un'epoca nelle quali le norme sismiche erano di altra natura. Ebbene, di tutto questo in quella nota non c'è traccia, ma si dice soltanto sarebbe più conveniente fare un mutuo e non è quello il modo migliore per poter realizzare l'ospedale. Sappiamo tutti che è più conveniente fare un mutuo, ma io credo che i consiglieri regionali, anche quelli dei 5 Stelle, sanno a memoria che la capacità di indebitamento in questa regione è pari allo zero, ma per evitare ulteriori diffidenze ho scritto come assessore al bilancio una nota al Dipartimento delle Risorse dicendo mettetemi per iscritto qual è la capacità di indebitamento di questa regione. E questa mattina a Montesilvano c'è stata una manifestazione di protesta davanti al nuovo distretto sanitario di base che attende ancora l'apertura. I sindacati lamentano i disagi per i cittadini e giudicano l'attuale sede inadeguata alle esigenze dei pazienti. Vediamo il servizio. Questa protesta segue anche quella del marzo 2014. Questa è la seconda che facciamo, quindi la dice lunga il fatto che dal 2014 il cantiere è ancora fermo. Gli appalti che dovevano essere indetti dalla ASL di Pescara sono fermi e tutto pronto, diciamo. Le risorse da assicurazione del direttore generale della ASL di Pescara ci sono, non si capisce dov'è l'intoppo burocratico. Noi vogliamo fortemente questa apertura per una serie di ragioni. Una è quella che si pagano circa 120 mila euro all'anno alla vecchia struttura che è fatiscente. Questa è un'opera importante che è iniziata da circa 15 anni e Montesilvano merita con i suoi 54 mila abitanti questo distretto sanitario di base. Noi purtroppo è da alcuni mesi che non riusciamo più a avere incontri, invece vogliamo chiamarli di nuovo al tavolo perché abbiamo l'esigenza noi, le città di Montesilvano, l'esigenza primaria di riaprire questa struttura anche per abbattere i costi dell'affitto della struttura storica. Parliamo tanto di sanità del territorio però dove si fa la sanità sul territorio se non nei distretti che sono il punto centrale di questo tipo di sanità. Il comune di Montesilvano in base all'accordo di programma i lavori che doveva fare li ha terminati e la struttura che vedete alle mie spalle è stata collaudata per la parte relativa ai lavori di competenza del comune di Montesilvano. La stessa cosa non ha fatto l'ASL e nel mese di ottobre ci hanno chiesto di intervenire e cioè di realizzare noi quei lavori di loro competenza. Ci siamo adoperati affinché si potesse realizzare questo, abbiamo fatto il progetto esecutivo. Il 4 aprile di quest'anno la Regione e l'ASL di Pescara hanno vidimato i progetti e ci hanno restituito i progetti. Noi siamo stati tempestivi e lo saremo sempre, però sia chiaro, il comune qui ci mette la faccia come sempre e dalla parte dei cittadini ma questa volta il comune si è sostituita alla ASL di Pescara e alla Regione Abruzzo che non hanno fatto il proprio mestiere. All'Aquila oggi si è svolta l'ultima seduta del Consiglio Comunale con Massimo Cialente Sindaco e proprio il primo cittadino ha tenuto un discorso di commiato che ci racconta Germano Dorazio. Consiglio Comunale dell'Aquila, ultimo atto. È stato lungo ed istrionico il discorso di commiato di Massimo Cialente, ormai alla fine dell'attività del Consiglio Comunale dell'Aquila. Il Sindaco uscente, non più rieleggibile, ha parlato di fronte ad un'assise quasi al completo, arricchita anche dal nuovo gruppo consigliare, articolo 1. Tra gli argomenti toccati da Cialente anche i risultati ottenuti con le nuove presenze industriali all'Aquila e i sottoservizi, obiettivi in cui, sottolinea il Sindaco uscente, in pochi avrebbero scommesso e non manca così la frecciatina al Presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti. Noi abbiamo fatto una scelta, all'inizio è stata un po' presa in giro, vado veloce a rivolgere gli altri, per alcuni minuti, di sottolineare l'Aquila. Quello è il sottoservizio. Mi piace di aver sentito qualcuno che se il sottoservizio gli ha scambiato i suoi fastidio, gli inviato, c'era. Attenzione, il sottoservizio, c'è una cosa che in questo momento sta succedendo l'interesse internazionale. Se oggi noi abbiamo una rivoluzione, abbiamo ottenuto una cosa che nel futuro veramente non sono i manitori, che è quello che è l'Aquila dell'Aquila, è una delle cinque città. È il capo, finita l'unico che è l'Aquila sulla sperimentazione del 5G. E se nel tutto abbiamo un mistero, il sottosegretario Giacomeglia dell'Aquila è avanti due o tre anni. E l'ha detta una cittadina che si chiama Milano, Milano, è perché noi abbiamo lavorato in quello che potevano sembrare delle situazioni che facevano rallentare la città, che provocava il panno, il Presidente Benedetti lo diceva. è uno dei tipi per cui si è capturata l'attenzione. Il mondo, se il Camerano diceva che stanno facendo questa lavoro con la firma che entrerà dentro l'appartamento, l'anello che finalmente abbiamo sbloccato, che collegherà tutte le strutture della nostra città con l'università, il ruolo dei grandi cittadini di ricerca, il GSSA, sono i quali ho sentito tante chiacchiere. Ora ci spostiamo a Lanciano e cambiamo argomento perché si è svolta questa mattina l'assemblea regionale della Wilm che ha eletto segretario Nicola Manzi. Il servizio. E' stato eletto per acclamazione Nicola Manzi, coordinatore regionale dei metalmeccanici della Wilm. Succede a Michele Lombardo, divenuto nel frattempo segretario regionale del sindacato al posto di Roberto Campo. A votarlo sono stati i 180 delegati riuniti in assemblea alla presenza del segretario nazionale Rocco Palombella alle porte di Lanciano. I primi impegni sono quelli di raccordare un po' tutti i territori, tutte le province, cercare di arrivare nei posti di lavoro come abbiamo sempre fatto, rafforzando la base, rafforzando i nostri militanti all'interno delle aziende e soprattutto tutelando il lavoro, l'occupazione, il salario e questi sono i principi sui quali si baserà la nuova attività futura per quanto riguarda la Wilma Abruzzo. I problemi più importanti impellenti da risolvere? I problemi più importanti sono gli stessi, ci sono tante micro aziende in crisi che vanno tutelate e sostenute. L'ultima faccenda è riguardata la San Marco, l'SGS che ha segnato un ulteriore passo dopo la bruttissima storia dell'ACS di tanti anni fa dove ci hanno scippato il lavoro. Per cui la nostra attenzione va non solo verso le grandi aziende che hanno bisogno del nostro supporto per 365 giorni all'anno ma soprattutto verso le piccole aziende che rappresentano la spina dorsale della nostra industria metalmeccanica. Lombardo lascia a Manzi il compito di vigilare sul 60% del settore industriale abruzzese che investe la metalmeccanica con l'importante comparto automotive che ha il suo fulcro in Val di Sangro. Ma non tutto l'Abruzzo, avverte Lombardo, viaggia alla stessa velocità. Però tutto l'Abruzzo non è uguale, abbiamo criticità forti nella Valle Peligna, abbiamo criticità forti nel Terramano, quindi io credo che con Nicola dobbiamo lavorare insieme per far capire a questa giunta regionale che il tessuto industriale abruzzese rimane fondamentale per lo sviluppo socio-economico della nostra regione e dentro questo sistema industriale l'automotivi e i metalmeccanici svolgono un ruolo primario. Continuiamo a parlare dei temi che riguardano i metalmeccanici perché ripresa attorno alle 14 la produzione nella Sevel di Atessa. Ieri sera infatti attorno alle 20 si era sviluppato un incendio all'interno della sala macchine del centro elaborazioni dati, un rogo domato attorno alle 22.30 grazie all'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Lanciano, Casoli e Chieti. Le cause dell'innesco incendiario sarebbero da ricercare in un cortocircuito scaturito dai gruppi di continuità, ossia dai generatori che tengono attivi i macchinari in caso di interruzione dell'energia elettrica. Subito dopo l'allarme incendio è stata bloccata la produzione e sono stati evacuati gli operai che in quel momento stavano lavorando sulle linee di produzione con le fiamme che si sono levate ad grande altezza e sono state visibili a grande distanza. La direzione aziendale della Sevel ha sospeso il turno in corso, quello notturno e quello successivo della mattina. Poi c'è stato un sopralluogo per la verifica dei danni e la decisione di riprendere la produzione nello stabilimento che produce il Ducato per il gruppo FCA-PSA. In genti comunque sarebbero i danni che vanno ancora quantificati. I ragazzi dell'istituto scolastico pescarese neoflaiano hanno chiesto di intitolare il ponte alla figura del grande scrittore pescarese e questa mattina sono stati accompagnati proprio sul ponte dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini e dal vice sindaco Antonio Blasioli. Il servizio è di Francesca Romana Testi. Avere anche noi bambini un piccolo ruolo in questo grande progetto sicuramente ci aiuterà a farci sentire più nostra la città. La maestra ci ha detto che ciò che fa crescere Pescara fa diventare grandi anche noi e perciò tutti i cittadini, noi compresi, dobbiamo contribuire al suo sviluppo. In principio era il Ponte Nuovo una costruzione imponente che svetta nel quartiere di Porta Nuova di Pescara, a pochi passi dalla cattedrale di San Cetteo. Poi una lettera ha cambiato le cose. I piccoli studenti della scuola intitolata Danio Flaiano hanno voluto dare il proprio contributo alla città, presentando una serie di proposte per l'intitolazione definitiva. Ad accoglierli sull'opera ormai completata l'amministrazione comunale, felice di vedere tanto senso civico da parte di così piccoli cittadini. Sì, assolutamente sì, è stata bellissima e toccante la lettera che hanno spedito dall'amministrazione comunale, in particolare al sindaco, chiedendogli di intitolare questo ponte a Flaiano. Sono i bambini di oggi, ma i cittadini del domani, quindi giustamente rivendicano questa potestà, quella di almeno intitolare il ponte ad un personaggio che ha fatto grande Pescara insieme a Danunzio. Quindi adesso avremo il ponte Flaiano assieme al ponte Danunzio. Io sono così piacevolmente circondato degli alunni della quarta A e della quarta B della scuola elementare e gnoflaiano che penso che questa sia una giornata bellissima, perché questa è la democrazia partecipata, questo significa recepire le istanze dal basso, questo significa confrontarsi con la cittadinanza e con questa cittadinanza così sensibile e così importante su un tema, cioè come intitolare questo ponte, che è una meraviglia dell'architettura ma anche un'infrastruttura che renderà più semplice la vita delle persone. Un mese è il tempo di attesa per l'apertura definitiva, restano ancora da ultimare alcuni dettagli della pista ciclopedonale e poi si procederà il collaudo che vedrà, come previsto da legge, il transito di mezzi pesanti in due diverse tranche, una di tipo dinamico e una invece basata sul carico complessivo delle due corsie, in tutto 22 tir. Si studieranno i gradi di oscillazione e se, come noi immaginiamo, non ci saranno problematiche, poi bisognerà fare un po' di laborlime. Fateci vedere su TV6, per favore, dai! Ciao! Restiamo sempre a Pescara perché l'assessore ai grandi eventi del comune, Giacomo Cuzzi, ha presentato quelli che saranno gli appuntamenti della giornata del primo maggio. Una bella giornata per festeggiare il lavoro con dei momenti di approfondimento con l'intervento internazionale di Martin Guevara, il fratello del CE, che presenterà il libro Mio Ermano e il CE, e poi ci sarà questo grande concerto che partirà dalle 5 con una rassegna di band locali molto importanti, di respiro nazionale, poi ci sarà il grande concerto gratuito degli After Hours in Piazza della Rinascita a partire dalle 20 e 30. Un grande appuntamento che lancia la stagione dei grandi eventi della città di Pescara, che sarà davvero ricca. Gli eventi che rigenerano la funzione attrattiva e turistica della città. Gruppi locali molto noti e poi il capitano del rock, Manuel Agnelli, che ha avuto una grande esperienza in ultimo a X Factor, con questo grande gruppo, poi con gli After Hours, che è un gruppo riconosciuto sicuramente a livello nazionale, ci auguriamo che tante persone possano scegliere nella nostra città per trascorrere questo ponte lungo del primo maggio in armonia, in serenità e anche in spensieratezza. Ma sicuramente sarà una stagione ricca di appuntamenti, il mese di maggio comincia appunto con degli eventi a Pescara Vecchia, il 28, poi ci saranno una serie di eventi nella Galleria Food del mercato di Piazza Muzzi, che cominciano a fine d'aprile e dureranno per tutto il mese di maggio e poi a maggio ci sarà il concerto, come dicevamo prima, del primo maggio e il raduno nazionale dei bersaglieri dal 17 al 21, per proprio proseguire con l'Irom, in un'altra manifestazione che porterà migliaia di arrivi e presenze nella città, arrivare fino alla notte bianca del 22 luglio, la notte bianca dell'Adriatico e poi tutta una serie di manifestazioni che puntano a rivitalizzare la funzione attrattiva e commerciale della città appunto in sinergia con i commercianti, le associazioni di categorie e gli operatori. A Teramo invece è tutto pronto per il Maggio Fest, la manifestazione di cinema, libri, danza e musica che è giunta alla 26esima edizione, un mese di eventi che vedranno come novità un omaggio suggestivo a Marco Pannella. Sentiamo Tania Bunnici Castelli. Il terremoto, lo spopolamento del capoluogo teramano non hanno fermato il Maggio Fest, la manifestazione culturale che da 26 anni anima il mese di maggio, trasformando la città di Teramo in una platea per artisti di alto livello. Cinema, libri, danza, eventi e musica, appuntamenti sapientemente selezionati dal regista Silvio Araclio che ne cura la direzione artistica, mentre l'organizzazione fa capo all'associazione Scuola Teatro Spazio 3. 26esima edizione, con quale spirito quest'anno? Spirito di continuità e anche di rinnovamento. Lo stesso manifesto di Stefano Canulli segna con questa luce, con questi colori, una speranza. Certo siamo una certezza ormai, l'unica forse certezza che continua da 26 anni in questa città con la cultura e questa edizione è fortemente desiderata, ottimizzando le risorse e anche ringraziamo i nostri sponsor dalla fondazione della Cassa degli Sparmi, cioè della fondazione Tercas principalmente e poi naturalmente la provincia, da speriamo la regione, il comune e quanti altri. Partiamo col cinema, abbiamo in tutto tra cinema, libri, musica e anche danza quest'anno 10 appuntamenti, quindi mi sembra abbastanza corposa. Uno sguardo particolare alle realtà della nostra provincia, della nostra regione, della nostra città che hanno fatto e si sono dati lustro e hanno ricevuto consensi in Italia e quindi anche all'estero. Un evento speciale ricordiamo Marco Pannella insieme alla provincia, dei Giardini Pannella, con sia Alberto Marcello e Albariccioni che canteranno e esibiranno delle aree contemporanee e anche con un piccolo frame, un atto unico della nostra scuola di teatro, cioè pericolosamente di Duardo De Filippo e poi letture varie. La chiusura è con l'orchestra del Saltarello, i solisti dell'orchestra popolare del Saltarello, diretti di Danilo e di Paolo Nicola che saranno sabato 20 maggio nei Giardini Pannella per chiudere in Kermess questa nostra 26esima edizione. Ed ora siamo allo sport con il calcio di Serie A in primo piano. Pescara che non ha più nulla da chiedere al massimo campionato dopo la retrocessione con cinque giornate di anticipo in Serie B in Società per questo si guarda al futuro ad allestire la prossima formazione che dovrà militare nel campionato cadetto, nel mirino del delfino c'è Boaci della Stella Rossa di Belgrado che era già tra gli obiettivi della passata sessione di mercato. Ci racconta tutto nel servizio Paolo Renzetti. La gara di domenica prossima al Sant'Elia di Cagliari passa quasi in secondo piano rispetto al lavoro che la società ha già iniziato per programmare la prossima stagione. Il direttore sportivo Luca Leone da settimane ha già avviato colloqui con direttori sportivi e procuratori. Per l'attacco l'obiettivo è tornato ad essere quello di Richmond Boaci che il Pescara aveva già seguito con interesse l'estate scorsa. Il giocatore ganese classe 93 fino a gennaio in forza latina nella scorsa finestra invernale di mercato è poi passato alla formazione serba della Stella Rossa di Belgrado realizzando sette reti in 11 gare. Boaci in Italia aveva indossato le maglie di Genoa, Atalanta, Sassuolo e appunto Latina. La Stella Rossa potrà esercitare entro il 30 giugno il diritto di riscatto ma se così non dovesse essere il Pescara si butterà a capofitto sul giocatore che piace molto all'entourage biancazzurro. La società adriatica con Boaci riuscirebbe a regalare a Zeman un altro tassello per l'attacco dopo aver chiuso già da tempo con la San Benedettese per l'acquisto di Leonardo Mancuso. Già chiusa anche la trattativa con il Bassan per il centrocampista Mattia Proietti. I continui guai fisici di Bayback molto probabilmente saranno decisivi per la fine dell'avventura in rival adriatico dell'ex giocatore del Paris Saint Germain. Anche Gilardino dovrebbe lasciare Pescara. Intanto la squadra si è allenata questa mattina al poggio degli Ulivi per la sostituzione dello squalificato Biraghi quasi certamente giocherà Crescensi con la squadra già matematicamente in Serie B plausibile che il tecnico Boemo decida di lasciare spazio ad alcuni giocatori poco impegnati fino ad oggi. Intanto i tifosi dei Pescara Rangers assenti da mesi nelle gare casalinghe seguiranno regolarmente la squadra al Sant'Elia. Ed ora scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo che domenica pomeriggio è chiamato al penultimo impegno in casa contro il Parma. Nelle fila biancorosse in dubbio ancora il centrocampista Mirko Spighi. Nel Parma invece è squalificato il mediano ex Chieti, Giorgino. Noi andiamo ad ascoltare le parole di Riccardo Barbuti che parla ancora di una possibile salvezza diretta. Ma sinceramente noi ancora i play-out non ci stiamo pensando. Pensiamo ancora che è possibile salvarci. Quindi adesso pensiamo partita per partita, abbiamo il Parma, pensiamo a vincere col Parma, poi guarderemo i risultati delle altre partite. Speriamo sempre una buona fede di tutti. Io da modenese dico che non c'è buon rapporto tra Modena e Mantua, quindi è sempre stata una partita quella dove tutte e due vogliono sopraffare l'altra squadra, soprattutto anche nelle società. Però è normale una posizione come hanno loro, è normale che poi subentano altre cose. Noi speriamo che si giochino la partita a viso aperto. Mi è arrivata la palla, ho perso un attimo nel guardare se era fuori gioco o no. Mi sono defilato un po' e nel momento in cui volevo tirare poi ho sentito la voce di Marco che mi ha un attimo così fatto cambiare idea e la volevo dar dentro per un appoggio comodo. Se veniva la giocata era una gran giocata, non è venuta quindi sono un coglione. Non mi spiego come abbiano annullato quel gol. Fuorigioco è impossibile perché noi proviamo gli schemi e speranza viene da dietro. A me non piace parlare molto degli arbitri ma diciamo che è una squadra che si deve salvare, che si vede annullare un gol del genere contro una squadra che non aveva a dire per la salvezza. È una decisione clamorosa. La difficoltà della gara contro il Parma è che incontriamo una corazzata che vive un po' un momento di difficoltà e noi dobbiamo correre più di loro. Non c'è niente da dire. Bisogna avere più fame di loro e vincere. Ora il tennis. La squadra giovanile under 14 del circolo tennis di L'Aquila si è laureata campione regionale nella Final Four di Castel di Sangro. Germana Dorazio. Dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di Serie A2 sull'ostico campo di Albinea per 4-2 che ha rappresentato un grande passo avanti per quanto riguarda la classifica, per il circolo tennis dell'Aquila arriva un altro importante risultato negli ultimi giorni, questa volta dalla squadra giovanile under 14 maschile. I ragazzi che compongono questa squadra, Fabio De Benedictis, Davide Perazza e Paolo Marsili, si sono infatti laureati campioni regionali uscendo vincitori dal Final Four disputato lo scorso 24 e 25 aprile nel centro fit di Castel di Sangro. Il tutto al fine di un girone di qualificazione provinciale e poi regionale dominato in cui sono emersi in toto i valori assoluti dei tre piccoli tennisti. Altri importanti risultati individuali di spicco sono arrivati da Gianluca Di Nicola e Massimiliano Scimia. Il primo in crescita costante con risultati e rendimento ha conquistato la finale del torneo Open di San Benedetto del Tronto, arrendendosi solo all'ultimo atto. Il risultato comunque ottimo arriva al termine di una settimana molto intensa per il giovane avezzanese, in grado di affrontare oltre al torneo anche la trasferta in Emilia Romagna con la Serie A2 per un totale di oltre 15 ore in campo negli ultimi cinque giorni. La finale ad ogni modo lo qualifica per le prequalificazioni degli internazionali d'Italia al viaggio dei prossimi giorni. L'altro importante risultato ottenuto invece da Massimiliano Scimia ha visto l'Aquilano spingersi fino agli ottavi di finale del torneo della terza categoria di Francavilla, perdendo unicamente al terzo set per mano della testa di Serie Donatello Volpe. È tutto per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.